Alla scoperta dei nostri tesori è il titolo del concorso promosso dal Comitato Tutela Nebrodi per far conoscere ai ragazzi delle scuole medie del territorio i prodotti che la loro terra offre. L'obiettivo è attivare un'economia circolante nel territorio, quindi far diventare il territorio un po' più ricco e le aziende un po' più sane. E' quello di tutelare naturalmente quello che sono i prodotti dei Nebrodi. Abbiamo dei tesori, li abbiamo chiamati tesori per questo motivo. Quindi è importante tutelarli in prima fase, in seconda fase cercare di attivare l'economia circolante. Bisogna ripartire dalle nuove generazioni e far capire quale è il nostro territorio, quali sono i nostri tesori, quali sono gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Il contest al quale gruppi o intere classi potranno iscriversi entro il 21 dicembre punta a tutelare e valorizzare la biodiversità e le produzioni dei Nebrodi quali agrumi, ortaggi, frutta secca, salumi e latticini per scoprire e approfondire le caratteristiche che li rendono unici, inconfondibili e inimitabili. Noi adulti siamo perfettamente a conoscenza del fatto che i marchi che la globalizzazione ci sta imponendo hanno pochissimo di genuino e cerchiamo di spiegare ai ragazzi fin dalla teneretà che sui Nebrodi ci sono delle ricchezze straordinarie a livello enogastronomico, alimentare. Cominciamo fin da giovani e ad apprezzarli, benvengano queste iniziative. Parte dalla scuola di Rocca di Caprileone questo contest che porterà i ragazzi delle nostre scuole a viaggiare attraverso un percorso alla scoperta dei prodotti dei nostri Nebrodi.